Audizione del prefetto di Trieste, dottor Valerio Valenti, avverto che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo circuito chiuso e la trasmissione in diretta streaming con modalità sperimentale sulla web tv della Camera dei Deputati. L'ordine del giorno reca l'audizione del prefetto di Trieste, dottor Valerio Valenti, in merito alla situazione dei migranti provenienti dalla cosiddetta rotta balcanica. A tale riguardo è stato sollevato un tema di legittimità delle procedure per la riammissione con la Slovenia che in questa sede intendiamo approfondire anche a fronte di dati che ci sono stati forniti dal servizio studi della Camera che per quanto riguarda i rientracci di stranieri entrati regolarmente a territorio italiano provenienti dalla frontiera slovena si segnalano un raddoppio nel 2019 rispetto al 2018 in quanti si è passato da 1567 a 3568 migranti rintracciati. Dato quest'ultimo che nell'anno 2020 ha subito un ulteriore aumento attestandosi a 4.120 rintracci. Così ci riferisce il servizio studi della Camera. I dati dei primi mesi del 2021 testimoniano un ulteriore aumento degli ingressi regolari in Friuli Venezia Giulia. Dal 1 gennaio al 10 maggio si registra un aumento che si attesta attorno al 20% rispetto allo stesso periodo del 2020. Desidero ricordare che l'audizione si svolge nell'ambito dell'indagine conoscitiva gestione del fenomeno migratorio nell'area Schengen con particolare riferimento all'attualità dell'accordo di Schengen nonché al controllo e alla prevenzione delle attività transnazionali legate al traffico di migranti e alla tratta di persone. La ringrazio Sua Eccellenza per la disponibilità dinanzi al nostro comitato e le do la parola. Prego Dottor Valenti e grazie ancora. Grazie, un saluto a lei Presidente e a tutta la Commissione. Dall'estate del 2018 si è assistito in territorio regionale, con particolare riferimento a quello della provincia di Trieste e di Gorizia, ad un incremento di ingressi di cittadini stranieri. In prevalenza pakistani, afghani, ma anche algerini, tunisini, marocchini, iracheni e recentemente nepalesi, lungo la tratta finale della cosiddetta rotta balcanica. Va rilevato circa le modalità di arrivo che appare possibile distinguere tra quanti, in prevalenza pakistani e afghani, giungono in territorio nazionale attraverso principalmente percorsi terrestri, caratterizzati dall'ersesi svolti al di fuori dei canali legali, e quanti specie provenienti dai paesi del Nord Africa o asiatici, svolgono un percorso diverso, che beneficia di facilitazioni derivanti da intese con stati dell'area balcanica, ma in entrambi i casi l'ingresso in territorio nazionale avviene in modo irregolare. Il flusso migratorio si è mantenuto costante negli anni successivi, quindi parliamo dal 2018 in poi, attestandosi sugli stessi livelli e mostrando un andamento ciclico annuale al momento sostanzialmente identico. Per quanto riguarda l'andamento del flusso migratorio sul territorio regionale, va infatti sottolineato che ha avuto una consistenza pressoché sovrapponibile nel 2019 e nel 2020, quasi 8.000 ingressi in ciascun anno, con la peculiarità di un maggiore interessamento rispetto al passato dell'area della provincia di Udine, a partire dalla stagione estiva del 2020. Nella presetta provincia, infatti, dall'estate del 2020, in più occasioni si sono verificati i rintracci di un numero significativo di migranti, anche sopra 100, a ridosso di centri abitati e lontano dalla fascia confinaria, verosimilmente scaricati dai mezzi attraverso i quali avevano fatto ingresso nel nostro Paese, nello Stato. Nella sola provincia di Trieste, nel 2019, sono infatti stati rintracciati 4.200 migranti, dato cui vanno aggiunti gli stranieri che si sono spontaneamente presentati in questura per richiedere la protezione internazionale e che porta a quasi 5.600 il dato complessivo del 2019. Nel corso del 2020, gli ingressi registrati in provincia di Trieste, comprendendo sia gli stranieri spontaneamente presentati in questura, per formalizzare la domanda di protezione internazionale, sia quelli rintracciati, sono stati quasi 5.100, quindi sostanzialmente in linea col 2019, se non leggermente al di sotto. La parte più consistente del flusso si è evidenziata nel periodo che va da aprile a settembre, con picchi che in alcuni casi hanno registrato 1.000 arrivi in un mese e 150 ingressi in una sola giornata, conoscendo un rallentamento unicamente in corrispondenza con le misure restrittive della circolazione delle persone fisiche adottate in Italia e all'estero per contrastare l'epidemia da Covid-19. Detti flussi si sono poi ridotti, come nelle precedenti annualità, in corrispondenza con il periodo invernale e fino allo scorso mese di gennaio. A partire dalla fine di febbraio di quest'anno, invece, gli stessi hanno iniziato a farsi più consistenti e a riproporre un andamento analogo a quello degli scorsi due anni. In particolare, da inizio dell'anno, sono oltre 1.300 gli stranieri rintracciati o spontaneamente presentatisi in questura per richiedere la protezione internazionale, la maggior parte dei quali arrivati in questo territorio a partire dallo scorso mese di marzo. Non è mai venuta meno la presenza anche di numerosi nuclei familiari, con bambini al seguito, anche in tenere età. Il dato relativo ai minori stranieri non accompagnati sembrerebbe segnare un aumento in termini numerici, significativo in termini percentuali se rapportato allo scorso anno. L'incremento, calcolato sugli ingressi al 30 aprile scorso, è infatti del 15%. Tale aumento dovrà essere verificato al consolidarsi dei dati relativi al 2021, ancora alla data odierna, suscettibili di interventi correttivi. Va in ogni caso evidenziato che, mentre tutti i migranti vengono sottoposti alle procedure di identificazione e fotosegnalamento, non tutti concludono il loro percorso di formalizzazione della richiesta di protezione internazionale in questa Regione. Alcuni, infatti, dopo l'identificazione e il periodo di quarantena, vengono trasferiti in strutture di accoglienza fuori Regione, altri invece, come in particolare i cittadini afghani, abbandonano volontariamente l'accoglienza per altre destinazioni, a dimostrazione che questo territorio, cioè quello del Friuli-Venezia-Giulia, è soprattutto, per alcune nazionalità, un'area di transito e non un punto di arrivo. L'incremento del flusso migratorio ha reso necessario rivedere ed implementare il dispositivo di controllo del territorio della fascia confinaria. A tale riguardo va premesso che la fascia confinaria regionale, punto di arrivo dei migranti, è costituita da un fronte di circa 200 chilometri, in gran parte zona boschiva, e dalla presenza di ben 58 valichi. Si tratta di valichi principali, secondari, agricoli, che presentano un'oggettiva impossibilità di essere vigilati, se non con l'impraticabile impiego di un imponente dispiegamento di forze. Per ciò che concerne la provincia di Trieste, la fascia confinaria è caratterizzata da una vasta fascia boschiva che è attraversata, oltre che da una viabilità ordinaria, da numerosissimi sentieri, e non presenta particolari connotazioni orografiche che ne rendano difficile l'attraversamento. Sul piano, quindi, delle azioni di contrasto, va innanzitutto segnalato che è operativo un dispositivo di controllo di retrovalico nell'ambito dell'operazione Strade Sicure, con l'impiego di militari a supporto dell'attività di polizia, recentemente rafforzato con l'assegnazione di nuovi contingenti e che ha portato all'attuale dispiegamento sul territorio di 425 militari, di cui 180 per il territorio di Trieste, 145 per Udine e 100 per Gorizia. Per quanto riguarda in particolare la provincia di Trieste, ad aprile 2020, in ambito di Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica, l'impiego di detto contingente di militari, già impegnato nei servizi di vigilanza al confine italo-sloveno in ambito retroportuale, è stato poi rimodulato, dislocandone un'aliquota significativa nelle zone periferiche di Trieste, a cinturazione dell'area urbana, in quanto in ambito cittadino erano sempre più frequenti i rintracci di un numero consistente di stranieri irregolari, superiori rispetto a quelli rilevati nel corso del controllo della frontiera terrestre. A seguito di tale rimodulazione non si sono più verificati significativi rintracci di migranti in centro città, venendo gli stessi intercettati preventivamente. Dall'altra parte, in relazione ai sempre più frequenti e cospicui ingressi sul territorio nazionale di stranieri irregolari, a partire dalla primavera del 2020, con un'ordinanza questorile, si è disposta l'attivazione di un contingente interforze a disposizione di un funzionario di turno della questura, dedicato proprio alla trattazione e alla vigilanza dei migranti, il cui rintraccio determina ripercussioni, può determinare ripercussioni sull'ordine e sulla sicurezza pubblica. Da segnalare infine l'attività di contrasto operata dal quarto settore della Polizia di Frontiera con le sue articolazioni dei settori di Trieste e di Gorizia, nonché all'attività operativa espletata dalla questura delle altre forze di polizia nella provincia di Udine. I dati riportati afferiscono gli anni 2019-2020 e al periodo 1 gennaio 30 aprile del 2021. A Trieste, lungo la linea confinaria, opera un dispositivo composto da pattuglie della Polizia di Frontiera con l'ausilio di mute di militari dell'esercito messi a disposizione nell'ambito del piano di strade sicure. Vengono di media quotidianamente impiegate 10-12 pattuglie della Polizia di Frontiera, 28 mute dei militari dell'esercito, di cui 16 coordinati dai commissariati di PS della Questura e 12 dalla locale sezione di Polizia Frontiera, per un totale giornaliero di oltre 100 operatori. Per quanto riguarda i risultati conseguiti nell'azione di contrasto al favoreggiamento dell'immigrazione irregolare, i dati riportano questi numeri. Nel 2019 sono stati 29 gli arresti, nel 2020 39, nel 2021, nel periodo 1 gennaio 30 aprile, sono già 14 gli arresti eseguiti. Per quanto riguarda invece i favoreggiatori denunciati, nel 2019-15, nel 2020-14, nel periodo 1 gennaio 30 aprile, sono 5. A Gorizia, lungo la linea confinaria, opera invece un dispositivo composto da pattuglie della Polizia di Frontiera con l'ausilio del reparto di prevenzione e crimine dei carabinieri e della Guardia di Finanza, nonché mute di militari dell'esercito messi a disposizione nell'ambito del piano strade sicure, forze coordinate a Gorizia dalla locale settore di Polizia di Frontiera. Vengono di media quotidianamente impegnate 7 pattuglie della Polizia di Frontiera, 4 del reparto di prevenzione e crimine, 5 dei carabinieri, 5 della Guardia di Finanza e 12 mute dell'esercito, per un totale giornaliero di oltre 80 operatori. Sono stati arrestati a Gorizia 7 favoreggiatori dell'immigrazione clandestina nel 2019, 8 nel 2020, ancora nessuno nel 2021. E le denunce, 6 nel 2019, 5 nel 2020, 1 nel 2021. Udine, lungo la linea confinaria della zona del Cividalese, opera un dispositivo composto da 5 pattuglie della Polizia di Frontiera, inviate di rinforzo dal Dipartimento della Pubblica Sicurezza, che coordinano l'attività di circa 30 mute di militari dell'esercito, 8 equipaggi del reparto prevenzione e crimine, che operano invece nell'area tra Palma Nova e Udine Nord, per un totale giornaliero di circa 140 operatori. Per quanto riguarda la provincia di Udine, i dati statistici sono meno dettagliati, non essendo disponibile per il 2019 di dati sui migranti provenienti dalla rotta balcanica, perché il fenomeno, come è stato detto, era praticamente assente in quell'area. Favoreggiatori dell'immigrazione, quindi, tratti in arresto, 0 nel 2019, 8 nel 2020, 3 nel 2021, per il periodo 1 gennaio 30 aprile. I denunciati, 0 nel 2019, 5 nel 2020, e ancora nessuno nel periodo 1 gennaio 30 aprile di quest'anno. Anche a Udine, i cittadini stranieri rintracciati provengono principalmente dal Pakistan, Afghanistan e Bangladesh. La quasi totalità non appartenenti a nuclei familiari. Tale fenomeno, oltre che attraverso servizi ordinari e straordinari di controllo del territorio, specificatamente dedicati, e la dislocazione sulla linea di confine di una consistente aliquota del contingente militare di operazione e strade sicure, nonché di aliquote del reparti prevenzione e crimine della Polizia di Stato, è stato sin dall'inizio contrastato anche attraverso l'applicazione delle procedure previste dal vigente accordo di riammissione tra Italia e Slovenia. Tale sinergia e tale strategia ha portato con il tempo a un cambiamento del modus operandi dei favoreggiatori, che anche per evitare l'applicazione dell'accordo di riammissione Italia-Slovenia del 3 settembre 1996, hanno iniziato a trasportare i migranti a bordo di furgoni o camper e più recentemente autoarticolati, spingendosi fino in provincia di Udine, percorrendo le principali direttrici stradali e autostradali che collegano detto capoluogo con le province di Trieste e Gorizia. Tale tesi risulta avvalorata dall'ubicazione dei luoghi in cui sono avvenuti rintracci nella provincia di Udine. A fronte dell'esiguo numero di rintracce effettuata nella zona del Cividalese, 65 da luglio a dicembre 20 e 54 da gennaio al 20 aprile 2021, la maggior parte dei migranti è stata rintracciata prevalentemente lungo la direttrice Gorizia-Udine, sia sulla massicciata della linea ferroviaria che lungo la direttrice stradale che collega i due capoluoghi, spostandosi progressivamente più a sud, con particolare riferimento al territorio del comune di Palmanova, in cui è presente anche il casello autostradale, verosimilmente sfruttando la direttrice Trieste-Venezia, fino a raggiungere con gli ultimi rintracci l'area ubicata a nord di Udine, ricompresa tra i caselli autostradali di Udine-Nord e Gemona. Un capitolo, a parte, merita di essere dedicato alla questione delle riammissioni. Quello delle riammissioni cosiddette informali è un argomento che ha recentemente attirato l'interesse dei media e suscitato critiche da parte di alcune onlus, secondo le quali l'attività delle forze di polizia avrebbe favorito pratiche illegali da parte della polizia slovena, croata e bosniaca. Le riammissioni informali sono previste dall'accordo bilaterale di Italo-Sloveno del 3 settembre 1996 e tali riammissioni all'inizio dell'emergenza sanitaria erano state interrotte dalla vicina Slovenia che le aveva poi riattivate dal successivo 23 aprile 2020. Va anche detto che con direttiva numero 31.799 del 13.05.2020 il ministro dell'interno ha dato impulso a dette riammissioni informali escludendo la possibilità di conflitti con l'accordo del 1996 cioè la possibilità di conflitti tra l'accordo del 1996 e la normativa comunitaria e in particolare con il regolamento UE numero 604 barra 2013 del Parlamento e del Consiglio del 26 giugno 2013 cosiddetto regolamento di Dublino ove la procedura informale di riammissione sia avvenuta a ridosso e nell'immediatezza dell'attraversamento della linea di confine operando su un diverso e distinto piano sia fattuale che giuridico. Nella stessa direttiva si sono altresì esclusi conflitti con gli obblighi costituzionali internazionali in particolare con quelli derivanti dall'applicazione dell'articolo 3 CEDU in quanto la riammissione avviene in uno Stato europeo nel quale non è impedito nei fatti l'esercizio delle libertà democratiche e dove vigono normative internazionali ed europee analoghe a quelle che vincono lo Stato italiano. In virtù di tali procedure che attualmente sono sospese gli stranieri rintracciati al termine della fase di identificazione qualora ricorressero i presupposti per la riammissione previsti nel relativo accordo italo-sloveno del 3 settembre del 1996 venivano riammessi in Slovenia. Delle procedure di riammissione informali sono sempre stati esclusi i minori i soggetti deboli e le famiglie. Recentemente il Tribunale di Roma ha dito ex articolo 700 codice procedure civile ha dapprima ritenuto illegittima la riammissione informale in Slovenia di un cittadino pakistano e successivamente lo scorso 27 aprile a seguito di gravame avanzato dal Ministero dell'Interno ha riformato la predetta pronuncia ritenendo mancante la prova di quanto sostenuto in atti dal cittadino pakistano. Quale fenomeno apparentemente legato all'applicazione delle procedure per la riammissione informale si è poi potuto registrare un rilevante incremento di stranieri in particolare di nazionalità afghana e pakistana che al momento del rintraccio si dichiaravano di età minore pur dimostrando evidenti connotati psicofisici dissonanti dall'età dichiarata. Tale fenomeno che ha rappresentato una delle tematiche operative con la quale gli operatori di polizia si sono dovuti confrontare viene a sottrarre risorse destinate a reali aventi diritto finendo così con l'incidere sulla possibilità di assistenza e accoglienza di quest'ultimi e ciò specie in un contesto reso ancora più difficile dalla gestione dell'emergenza pandemica. A seguito di profigue interlocuzioni e grazie alla sensibilità della Procura Generale della Repubblica e della Procura per i minori di Trieste il Procuratore per i minorenni ha ritenuto di emanare un'apposita direttiva alle forze di polizia indicando procedure operative che nell'ottica della tutela dei soggetti minori consentano di affrontare il tema delle false dichiarazioni di età con dettagli di presupposti e condizioni. Sempre in tema di minori un aspetto su cui anche il Procuratore per i minori ha ritenuto di richiamare l'attenzione con l'evidenziata necessità di trovare al più presto correttivi legislativi ha riguardato il tema dei minori provenienti dall'area balcanica principalmente i kossovari che prossimi alla maggiore età quindi quasi sempre 17 anni o quasi 18 anni vengono accompagnati alla frontiera dai familiari per poi presentarsi direttamente agli uffici di polizia richiedendo la tutela di legge e ottenendo quindi alla maggiore età la conversione automatica del permesso di soggiorno da temporaneo a permanente sulla scorta di improbabili attestazioni di assunzione lavorativa reperite tramite canali riferibili alla comunità di appartenenza spesso illeciti. Secondo il Procuratore dei minori tale fenomeno che alimenta un mercato illegale di attestazioni concernenti assunzioni di minori di consistente valore potrebbe essere contrastato evitando l'automatica conversione del permesso di soggiorno. Per quanto riguarda poi le procedure sanitarie i richiedenti asilo sono sottoposti a immediato controllo medico al momento del rintraccio o della loro spontanea presentazione. È in vigore un apposito protocollo con la locale azienda sanitaria che prevede un intervento dedicato di medici per i controlli sanitari. Detto protocollo integra il dispositivo a chiamata del 118 che in precedenza ha assicurato lo screening sanitario speditivo. Dopo i controlli i richiedenti asilo sono sottoposti alla misura della sorveglianza sanitaria dell'isolamento fiduciario prevista dal decreto interministeriale numero 120 del 17 marzo 2020 e confermata dai successivi provvedimenti normativi da svolgersi presso strutture di cosiddetta quarantena allestite dalla Prefettura. Un altro capitolo vorrei dedicarlo ai pattugliamenti misti. Tra le misure di controllo del fenomeno migratorio da citare occorre ricordare quella dei pattugliamenti misti congiunti lungo il confine italo-sloveno nella zona compresa tra le province di Gorizia e Trieste maggiormente interessate dal fenomeno migratorio previsti dal protocollo tra il Ministro dell'Interno e la Direzione Generale di Polizia del Ministro dell'Interno della Repubblica Slovena. Tale misura inizialmente con una cadenza di quattro servizi settimanali ha avuto inizio il primo luglio del 2019. Le pattuglie erano composte da operatori della Polizia di Stato italiana e da personale della Polizia slovena. La composizione dell'equipaggio impiegato veniva modulata in relazione alla località di effettuazione del servizio. Se questo veniva effettuato in territorio italiano la pattuglia era composta da due operatori italiani e uno sloveno. Al contrario quando il servizio di pattugliamento veniva effettuato in territorio sloveno erano due sloveni e un italiano. In ottobre l'accordo era stato rinnovato e contestualmente si è provveduto a potenziare il numero dei servizi portandoli da 4 a 8 per ogni settimana. Tali servizi si aggiungevano all'attività ordinaria di retrovalico svolta dalla Polizia di Frontiera con i militari come abbiamo visto in tutti i quadranti giornalieri lungo le principali direttrici di accesso dall'Italia alla Slovenia. Il predetto servizio di pattugliamento è cessato il 12 marzo 2020 in concomitanza con l'emergenza epidemiologica da Covid-19 benché avesse portato ad esiti contenuti dal punto di vista del numero dei migranti rintracciati durante tale servizio lo stesso ha rappresentato un'utile occasione di scambio e di informazione e di collaborazione tra forze di polizia dei due paesi. per ciò che concerne invece i controlli lungo la fascia confinaria con la Croazia il governo di Ljubljana ha pianificato azioni per avviare pattugliamenti congiunti con forze di polizia di altri stati dell'Unione Europea avviando intese con i governi interessati per giungere alla firma di un memorandum o protocollo d'intesa. Detta iniziativa è stata attuata in forza della decisione 2008-615 GAI del Consiglio dell'Unione Europea sulla cooperazione tra stati nella lotta al terrorismo e alla criminalità internazionale e conseguirebbe alla mancata approvazione da parte del Parlamento sloveno del progetto che prevedeva una più ampia partecipazione dell'esercito nell'attività di controllo dei confini più interessati dal fenomeno dei flussi migratori provenienti dall'area balcanica. Per quanto riguarda poi l'accoglienza dei migranti in provincia di Trieste allo Stato sono attivate due strutture per quarantena degli adulti con una capienza complessiva di 230 posti compresi quelli per il temporaneo isolamento dei soggetti positivi asintomatici. Una consistente parte dei posti attivati oltre 130 sono sistemazioni in una tendopoli che si è potuta allestire grazie al supporto in tal senso assicurato dal Ministro dell'Interno con la fornitura di materiale necessario. allo Stato le predette strutture hanno ormai raggiunto la loro massima capacità ricettiva circostanza che ha imposto a fronte di picchi di arrivi non gestibili a livello provinciale di attivare la sempre profigua collaborazione con i colleghi prefetti del Friuli Venezia Giulia che pure hanno allestito nei rispettivi territori apposite strutture di quarantena per far fronte ai rintracci effettuati sui rispettivi territori e anche in un'ottica di mutuo aiuto in ambito regionale. Ne consegue un'articolazione regionale di dette strutture che consente di avere oggi a disposizione circa 500 posti per la quarantena parte dei quali utilizzati anche per l'isolamento dei positivi asintomatici. Lo stesso Ministro dell'Interno al termine del periodo di quarantena assicura il trasferimento dei richiedenti asilo negli ordinari centri di accoglienza siti fuori in regione o anche nell'ambito dei progetti facenti capo al SAI sistema di accoglienza e integrazione di tutta Italia mentre nei confronti dei migranti che non hanno chiesto la protezione internazionale viene adottato il provvedimento di espulsione. Qualche considerazione conclusiva desidero sottolineare che il sistema di accoglienza triestino per il richiedente asilo orientato sul modello di un'accoglienza diffusa è stata sinora in grado di mantenersi in equilibrio pur a fronte di una pressione esercitata dal flusso immigratorio proprio grazie all'attenzione mantenuta dal Signor Ministro dell'Interno sulle esigenze del territorio provinciale di Trieste e della Regione. Il quadro che ne deriva è quello di un fenomeno che è particolarmente attenzionato dal Ministero dell'Interno come del resto testimoniato dalla costante interlocuzione con gli uffici centrali e dal supporto sempre assicurato per i profili logistici in termini di risorse anche per i feriviti potenziamenti del sistema di controllo di retrovalico e di supporto alle attività delle forze di polizia va anzi sottolineato che lo stesso Signor Ministro anche attraverso interlocuzioni dirette con i vertici della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia e con i sindaci dei territori più coinvolti ha sempre monitorato l'evoluzione del fenomeno migratorio rappresentato dalla cosiddetta rotta balcanica sotto questo profilo va ricordato che lo scorso settembre il Ministro ha incontrato i prefetti della Regione nonché i sindaci maggiormente impegnati sul fronte dell'accoglienza per approfondire alcune tematiche di maggior impatto sulle comunità locale e sulle finanze comunali quali la gestione dei minori stranieri non accompagnati sono fattori questi che consentono di affermare che salvo incrementi improvvisi degli arrivi che vadano oltre i numeri fino a qui visti e gestiti la permanenza del descritto sistema di vasi comunicanti rappresentato dai periodici trasferimenti di richiedente asilo tra questa Regione verso altri territori consente di mitigare e gestire il fenomeno migratorio dei richiedenti asilo assicurando attraverso il modello adottato dignitose condizioni di accoglienza e di limitare l'impatto dello stesso sul territorio e sulle comunità locali grazie 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 signor prefetto la ringrazio per il suo lavoro e per questa relazione che acquisiamo e mettiamo agli atti le chiedo di portare questo ringraziamento anche al suo team alla sua squadra ai suoi colleghi funzionari ma anche agli operatori e in particolare agli agenti tutti delle forze dell'ordine che operano in questo ambito molto delicato ora la parola ai colleghi parlamentari ho chiesto di intervenire sono prenotate l'onorevole Di Muro l'onorevole De Luca Di Muro prego prego onorevole grazie presidente grazie per la relazione prefetto allora sui numeri ha detto che siamo sui 1300 stranieri rintracciati o che si sono in qualche modo presentati alle autorità italiane all'inizio dell'anno volevo sapere se avete idea anche se immagino i numeri non possano essere puntuali di quanto complessivamente sono i migranti che transitano in questa vasta area che lei ha descritto anche in maniera puntuale per avere una cifra un po' più complessiva per capire anche quant'è la percentuale di quelli diciamo regolari in quanto hanno presentato una domanda di protezione internazionale quelli che hanno saltato più e pari questo tipo di attività ha detto che non tutti concludono l'iter di identificazione quindi seguono le procedure che garantisce il nostro ordinamento anche per l'accoglienza oppure che da una prima accoglienza preferiscono fuggire quindi verso il resto d'Italia volevo capire se che tipo a livello logistico di dispositivo ha garantito lo Stato con le sue forze di polizia nel trasferire dai primi centri di identificazione verso queste strutture prima sul territorio poi a livello italiano ha parlato di vari centri in Italia per l'accoglienza voglio capire come logisticamente con Pullman con quali forze dell'ordine con quali tempistiche e modalità vengono collocati e trasferiti questi migranti ha parlato di arresti sia per quelli che svolgono il reato di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina ma visto che siamo anche in un periodo di riforma della giustizia a livello penale della sua procedura io volevo capire l'arresto di migranti che commettono qualche reato sul vostro territorio se si procede poi in quale percentuale è un vero e proprio arresto nelle strutture penitenziarie o siamo sempre al discorso del foglio di via di allontanamento da quella provincia che in qualche modo non risolve il problema in qualche modo non fa neanche spiare la pena ovvero provoca problemi ad altre province italiane verso le quali magari i migranti già avevano intenzione di andare perché stiamo parlando della sua area come un'area di transito quindi il provvedimento poi si tramuta in un nulla di fatto per chi ha commesso il reato e poi se può fare ancora un chiarimento sull'accordo di riammissione Italia-Slovenia perché mentre il vostro oggetto come ha detto di dibattito e anche il Ministero dell'Interno giustamente è impugnato fatto a causa per mantenere in vigore efficace questo accordo permane quello Italia-Francia e quindi lì accogliamo un centinaio di migranti riconsegnati dalla Francia verso l'Italia quindi delle due l'una o rivediamo come mi pare abbia chiesto l'Europa tutti gli accordi di riammissione oppure dobbiamo farli funzionare da ambo le parti altrimenti rischiamo che il nostro paese rimane quello che si deve trovare a far fronte con i maggiori problemi sui flussi migratori grazie 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 onorevole De Muro proseguiamo signor Prefetto con l'onorevole De Luca poi si è pronunciata l'onorevole Galizia che ci segue in collegamento prego onorevole De Luca grazie Presidente ringrazio anch'io il signor Prefetto per la presenza la disponibilità e la relazione molto approfondita ma alcune considerazioni preliminari innanzitutto sia pure in estrema sintesi è evidente che la sua presenza qui e l'attenzione di questa commissione è volta a marcare l'esigenza di dare diciamo adeguato peso politico istituzionale operativo all'attenzione dovuta alla rotta balcanica così come la rotta mediterranea è evidente che l'Italia è diciamo paese non di primo approdo per la rotta balcanica ma tra le destinazioni principali europee di arrivi che provengono come lei diceva da più disparati paesi extra europei tra cui Afghanistan e Pakistan in primo luogo ma non solo per cui è doveroso dare estrema attenzione anche a questa rotta oltre a quella su cui stiamo ponendo estrema attenzione accento quella mediterranea a riguardo siamo consapevoli che è necessario un salto di qualità e un maggiore impegno da parte dell'intera Unione Europea ed è un tema che noi abbiamo posto al governo e che il governo ha posto da ultimo al Consiglio Europeo sarà oggetto di una specifica attenzione del prossimo Consiglio Europeo di giugno speriamo che anche su questo tema si possa fare davvero un salto di qualità a livello europeo per prevedere dei meccanismi di solidarietà automatici strutturati obbligatori che consentono di sostenere e supportare gli sforzi degli stati maggiormente esposti ciò chiarito è evidente però che dobbiamo provare a dare alcune risposte lei ha dato dei dati delle informazioni estremamente interessanti noi crediamo sia utile la riattivazione o la implementazione delle pattuglie miste Italia-Srovena questo sicuramente credo possa essere un tema importante sotto il profilo dei controlli soprattutto nei confronti delle reti trafficanti di uomini che vanno contrastate nel Mediterraneo nel Nord Africa così come lungo la rutta balcanica questo è un impegno che dobbiamo tutti assumerci con grande forza e con grande nettezza allo stesso tempo però è necessario dare il massimo assistenza e sostegno possibile a chi giunge comunque nel nostro Paese e fa domanda inoltre domanda di protezione internazionale da questo punto di vista crediamo allora che forse il sistema di accoglienza diffusa sia un sistema maggiormente in grado di consentire con minore aggravio ma minore difficoltà sia da un punto di vista delle istituzioni pubbliche sia da un punto di vista della tenuta sociale di rispetto degli standard minimi di civiltà di umanità che sono dovute ai richiedenti asilo maggiore tutela e sostegno al nostro Paese forse da questo punto di vista si è fatto un passo indietro in Friuli-Venezia-Giulia negli ultimi tempi o a che punto siamo da questo punto di vista o è necessario implementare questo tipo di accoglienza diffusa allo stesso tempo dobbiamo come Italia lo stiamo facendo a livello europeo chiedere un supporto a parte di tutti gli altri Stati membri per riformare il regolamento di Dublino ossia sostenere il nostro Stato per creare meccanismi di redistribuzione obbligatoria di appunto richiedenti asilo in tutti gli Stati europei allo stesso tempo è però doveroso chiedere diciamo una disponibilità anche alle regioni italiane di farsi carico in modo solidale diciamo in proporzione della distribuzione dei richiedenti asilo che sono sul territorio italiano fin quando le loro domande le procedure l'Iter non sia stato completato da questo punto di vista abbiamo notato delle forti resistenze da parte di alcune regioni soprattutto governate ma sono dati oggettivi dal centro-destra sulla solidarietà diciamo da dare a tutti i territori nazionali la redistribuzione delle risorse forse da questo punto di vista ci vorrebbe un po' di disponibilità maggiore chiudo sull'aspetto legato diciamo alle misure di prevenzione che cosa si sta facendo per diciamo mettere in campo delle misure che consentano di mantenere la rete di sostegno di supporto di tenuta sociale di tenuta di umanità nel nostro paese nei confronti degli eventuali aumenti o incrementi che potrebbero arrivare durante l'estate di flussi nel nostro nel nostro paese quindi insomma un po' un chiarimento sulle misure di prevenzione che si stanno mettendo in campo sia a livello regionale che a livello ovviamente ministeriale nazionale per il tramite della prefettura grazie grazie onorevole De Luca onorevole Galizia prego deputato grazie presidente anche io voglio ringraziare il prefetto per essere qui con noi oggi sia per la sua presenza fisica che come se in questo momento è difficile e per la sua relazione che è stata complita e ricca di dettagli importanti allora io volevo riscorrere velocemente un po' il suo intervento facendole alcune domande sugli aspetti che hanno attirato la mia attenzione allora prima di tutto la questione delle riammissioni informali come le ha detto sono attualmente sospese rimandando un po' la domanda del collega di muro che chiedeva appunto maggiori delucitazioni su diciamo tutta la questione che è stata sollevata in via mediatica e anche da parte delle onlus che erano contrarie a questa tipologia dell'utilizzo delle riammissioni per contestare il fenomeno delle migrazioni io le volevo chiedere piuttosto se si sta pensando a riattivare questa tipologia di meccanismo e quindi se le riammissioni verranno nuovamente effettuate poi le volevo fare una domanda sulla questione del pattugliamento misto se l'Ilo ha ritenuto uno strumento utile e se verrà reintrodotto se ci poteva dare qualche anticipazione se si sta lavorando in merito al tema perché secondo me il pattugliamento misto così come l'abbiamo verificato anche nella zona di Ventimiglia era un utile strumento di controllo e di verifica dei confini quindi e come anche ha definito il mio collega De Luca rappresentano sicuramente un strumento molto utile non solo per il numero che come le ha detto è stato comunque limitato quanto piuttosto per una questione di collaborazione ma allo stesso tempo diciamo funzionano anche un po' per frenare il fenomeno in sé ha fatto un passaggio sulla questione dei minori nel senso che c'è una direttiva che va a far intervenire i falsi minori non accompagnati non ho capito bene su quali criteri andate a definire chi è minore e chi no se effettuate non so tipo la radiografia dei polsi il sistema che si è utilizzato in alcune occasioni oppure altre tipologie di sistemi se magari mi dà una delicitazione sul tema inoltre lei ha sottolineato la problematica legata alle strutture e alla difficoltà qualora dovessero aumentare i flussi perché già queste strutture oggi presenti sul territorio sono oltre la capienza e quindi le volevo chiedere se si sta pensando a non so collocare delle navi per accogliere i migranti come è successo ovviamente distante dal territorio per accogliere i migranti come è successo in Sicilia o si sta pensando ad appoggiarsi su altre strutture perché come è successo l'anno scorso nella zona di Udine collocare i migranti negli autobus ha creato una forte pressione e malcontento da parte dei migranti e quindi con successive rivolte amnesse infine l'ultima domanda è chiudere volevo chiedere se si sta lavorando con la regione per dare supporto sui sistemi di controllo al confine quindi oltre la videosorveglianza magari si sta lavorando la possibilità di installare dei tercoscanner perché come ha detto lì molti migranti arrivano a bordo dei furgoni e poi vengono fatti scendere a una certa distanza dal confine e quindi si sta avviando la possibilità di utilizzare strumenti digitali innovativi su questo tema grazie grazie scusi se la interrompo ma richiamo mi chiedo scusa ai colleghi componenti del comitato che ho necessità di chiudere prima delle prima delle 15 per la concomitanza anche di altre commissioni scusi se la interrotta norevole Galizia senatrice Testor poi diamo la parola al signor prefetto grazie anche io ringrazio il prefetto Valenti per questa sua relazione e alcune considerazioni in merito allora è evidente che in questi ultimi anni dai dati che lei ci ha fornito c'è stato un incremento appunto di questi numeri di persone che arrivano sul territorio proprio lungo la rotta dei Balcani ulteriormente come lei prima ha indicato il numero appunto dei minori non accompagnati di un 15% quindi è un numero abbastanza ampio di incremento e soprattutto a me era interessante quello che diceva che venivano che i ragazzi arrivano appunto sull'età dei 17 18 anni sulla questione appunto del permesso temporaneo che poi diventa appunto a tempo determinato questo probabilmente è una cosa che incentiva questo fenomeno e quindi io credo che su questo tema bisognerebbe porre maggiore attenzione proprio da parte di tutte le forze politiche le domande che io volevo farle si riferiscono alla situazione dei 58 valichi perché lei come diceva prima sono stati impiegati ulteriori forze dai 425 appunto militari che sono stati inviati spiegandoci anche poi quanti operatori sono suddivisi su Trieste Gorizia e Udina ma volevo sapere qual è la situazione attuale appunto dei diversi valichi se sono stati chiusi o qual è in questo momento magari i valichi minori ecco un'altra cosa che mi pareva importante anche sapere dopo appunto che c'è stato il che è stato terminato il rapporto o sospeso il rapporto con le forze slovene appunto di pattugliamento condiviso qual è anche il rapporto con il sindacato italiano per quanto riguarda appunto il fenomeno che ci ha descritto lei prima quali sono i rapporti all'interno dei sindacati o se sussistono eventuali problematiche grazie grazie senatrice se non ci sono altri interventi la parola al prefetto grazie proverò a fare una carrellata un po' come dire su tutte le questioni poste alcune si sovrappongono e quindi mi scuserete se non sarò puntualissimo rispetto alle singole domande ma cercherò di cogliere il senso un po' di tutto il ragionamento allora inizierei proprio dalla fine e chiarendo un elemento io ho parlato di una sostanziale stabilità del fenomeno all'inizio del mio intervento e questo può determinare probabilmente un equivoco in realtà non lo è e voglio fare questo chiarimento dicendo che il dato complessivo è composto da due voci gli stranieri rintracciati quindi che a seguito di un'attività di polizia vengono fermati lungo la linea confinaria e gli stranieri invece che spontaneamente si presentano presso delle strutture di polizia questo dato sommato insieme da un aggregato che è sostanzialmente in equilibrio tra il 2019 e il 2020 e ancora nel 2021 in realtà dall'altro canto invece il numero degli stranieri rintracciati quindi non è contraddittorio quando sentiamo che il dato in forte momento degli stranieri rintracciati è cresciuto molto perché è diminuito quello degli stranieri che spontaneamente si presentano agli uffici di polizia quindi cosa vuol dire questo in termini di impegno delle forze di polizia che è cresciuto enormemente il lavoro fatto dalle forze di polizia lungo l'arco confinario che ha portato quindi a un gran numero un maggior numero di rintracci e a un minor numero di spontanee presentazioni quindi le forze di polizia lavorano di più in questi due anni hanno lavorato sicuramente di più stanno lavorando di più il ministero al di là diciamo dei governi ha sempre dato un'attenzione molto particolare molto forte negli ultimi tempi a questa realtà tant'è che i dispositivi sono stati ulteriormente implementati abbiamo tanti uomini adesso sia dell'esercito che della polizia che sono impegnati lungo tutto l'arco confinario quindi ecco questo chiarisce un po' perché c'è una contraddizione tra la crescita del fenomeno che riguarda i rintracci e la presenza complessiva dei migranti che è socialmente stabile perché prima si presentavano da soli non venivano rintracciati passavano e andavano poi o all'ufficio di polizia di Muggia o alla questura di Trieste e comunque dopo come dire affioravano adesso anche grazie a quelle cose che ho cercato di raccontare nella relazione il dispositivo di cinturazione della città di protezione della città a evitare che questi migranti come dire arrivino poi improvvisamente proprio nel cuore della città vengono invece rintracciati e fermati praticamente quasi a ridosso della linea confinaria sono quotidiani i report che ci danno atto di questa di questa attività questo è chiarimento dopodiché i vali non sono chiusi i vali sono tutti aperti sia quelli secondari quelli primari le trazzere insomma tutte le strade e la realtà come ho detto confinaria è in questo momento permeabile non è presidiata se non nei valichi principali ovviamente e con controlli a campione per quanto riguarda i sindacati ecco così vado a ritroso i rapporti sono molto molto buoni molto proficui non ci sono state particolari come dire prese di posizione da parte delle organizzazioni sindacali rispetto all'attività disimpegnata sicuramente va detto che oggi le nostre forze di polizia stanno lavorando molto di più che in passato quindi certamente i nostri poliziotti sono sottoposti ai carabinieri e alla guardia di finanza è sottoposto a uno stress lavorativo maggiore rispetto al passato e questo quindi certamente coinvolge l'attività delle organizzazioni sindacali le procedure di identificazione vengono fatte nei confronti di tutti i migranti che vengono rintracciati da questo punto di vista posso assicurare che i migranti vengono tutti identificati foto segnalati e inseriti in banca dati quindi diciamo lei ha chiesto onorevole se ci sono migranti che sfuggono a questo controllo ovviamente non posso risponderle in termini numerici perché se sfuggono è ovvio che non non vengono censiti però d'altro canto le devo anche dire che proprio per quel ragionamento che compievo prima il numero dei migranti intercettati è cresciuto tantissimo quindi devo dire che molto presumibilmente oggi quasi tutti i migranti insomma vengono fermati e vengono identificati dopodiché le fasi di trasferimento vengono seguite personalmente dalle prefetture che attraverso autobus attraverso sistemi quindi di di trasporto che seguono delle logiche ovviamente che sono connesse alle disponibilità che si rendono libere lungo tutto il territorio nazionale vengono accompagnati nei centri i centri sono centri di accoglienza quindi sono centri aperti sono centri che non hanno ovviamente delle come dire delle forme di coercitive perché non sono dei CPR sono dei centri aperti quindi da quei centri così come dai centri nei quali vengono portati nell'immediatezza anche quelli per l'isolamento fiduciario la sorveglianza sanitaria è possibile che ci siano degli allontanamenti e di questo ho dato atto anche nella riunione con onestà voglio dire e con verità per quanto riguarda gli atti dell'autorità giudiziaria la risposta è diciamo non c'è una regola nel senso che a volte il provvedimento di arresto dei favoreggiamenti di colui che favoreggia del passere chiamiamolo col termine giornalistico l'arresto del passere si trasforma in un arresto effettivo a volte no a volte no quindi dipende dall'autorità giudiziaria che diciamo che è chiamata a intervenire al momento l'accordo lei poi ha avvocato anche l'accordo con la Francia quindi diciamo il parallelismo tra l'accordo con la Francia e l'accordo con la Slovenia sì sono esattamente identici i due accordi proprio anche nella formulazione nel testo quello con la Slovenia e qui rispondo anche alle varie domande è stato ritenuto dal ministero non solo diciamo valido ma applicabile coerente con la legislazione europea in particolare col regolamento di Dublino nella misura in cui ripeto la Slovenia è un paese che garantisce ed assicura l'esercizio dei diritti da parte dei migranti degli stessi diritti di rivendicare la protezione umanitaria e internazionale così come l'Italia al momento appunto la procedura è sospesa è stato chiesto anche se è intenzione del ministero di riattivarla queste valutazioni sfuggono ovviamente dalla mia competenza i presupposti giuridici sono ritenuti esistenti e quelli fattuali dipenderà dalla volontà quindi che ci sarà di dare corso certamente per i migranti che non fanno richiesta di asilo cioè che non presentano al momento dell'intraccio la richiesta di asilo o manifestano comunque la volontà di richiedere asilo potrebbe essere sicuramente ripresa anche la riammissione informale nei confronti della Slovenia il pattugliamento misto il pattugliamento misto diciamo come ho detto non ha un valore di per sé significativo se correlato ai numeri ma ha un valore culturale e un valore di collaborazione che va oltre il dato numerico e che io credo al più presto non appena le condizioni sanitarie lo consentiranno andrà auspicabilmente ripreso anzi credo che probabilmente oggi quello che bisognerebbe questa è la mia valutazione è provare a fare e aprire anche un ragionamento insieme alla Croazia cioè spostare sul fronte croato-sloveno il pattugliamento proprio perché il confine europeo è quello della Slovenia e non quello dell'Italia è il primo confine diciamo europeo ma credo che il ministero è molto sensibile su questo tema e i rapporti in atto anche a livello di forze di polizia sono intensi e penso che questa strada una volta interpresa non possa essere più abbandonata per quanto riguarda la direttiva dei minori la direttiva è stata adottata dal procuratore dei minori la razio è quella di un esame sostanzialmente visivo insomma si tratta di guardare e vedere la persona che è di fronte che visibilmente presenta dei connotati da adulto ma da molto adulto direi e che quindi in quel caso secondo quello che il procuratore ha scritto nella sua direttiva alle forze di polizia consente alle forze di polizia di effettuare come dire un diniego sostanzialmente della dichiarazione di minore anzi una dichiarazione anche un perseguimento di una fattispecie penale perché si tratta di avere dichiarato delle attestazioni false questo fenomeno si era presentato e si è presentato molto probabilmente proprio in connessione con le riammissioni cioè per aggirare per evitare la riammissione informale in Slovenia molti adulti si sono dichiarati minori e questo ha determinato il fenomeno tant'è che in questi ultimi tempi in cui le riammissioni informali sono sospese il fenomeno si è sostanzialmente azzerato per quanto riguarda ecco è stato chiesto delle navi l'utilizzo delle navi o dei sistemi di accoglienza allora al momento non è previsto l'utilizzo di navi per quanto riguarda la rotta balcanica il frutto di Venezia Giulia il sistema tiene nella misura in cui viene garantito diciamo sostanzialmente un limite massimo per tutto il frutto di Venezia Giulia che al momento è in termini di accoglienza io riporto il dato ultimo del 2021 è di circa 2428 qualche giorno fa 2428 migranti accolti nel frutto di Venezia Giulia tengo anche a precisare che questo dato è in decremento rispetto al passato nel 2019 erano 3452 migranti accolti in in frutto di Venezia Giulia 2681 nel 2020 2.428 ad oggi questo significa che il ministero ha dato particolare attenzione anche al territorio del frutto di Venezia Giulia trasferendo in altre realtà del territorio in altre regioni migranti e alleggerendo quindi un po' il peso della presenza del fenomeno migratore sul territorio del frutto di Venezia Giulia per quanto riguarda le misure di prevenzione e di ulteriore controllo io credo che il dispositivo oggi sia diciamo al massimo della sua potenzialità certo tecnologicamente si potrebbe anche fare di più ed è in atto una interlocuzione con la regione frutto di Venezia Giulia per dotare anche di strumenti tecnologici alcuni varchi con la consapevolezza che si tratta di un territorio estremamente permeabile che è un territorio che quindi diciamo se è presidiato in alcune parti offre il destro di una scopertura per altri territori così come è in corso di valutazione una pianificazione di controlli sugli assi viari principali proprio per cercare di interdire gli arrivi in provincia di Udine che si sono manifestati negli ultimi tempi particolarmente intensi sapendo bene che è un fenomeno che ovviamente se si riesce ad arginare per certi versi poi trova quasi sempre altre vie per riprodursi ma comunque l'attività è davvero l'impegno di tutte le forze di polizia a cui colgo l'occasione di questa diciamo audizione per rivolgere il mio ringraziamento la mia gratitudine è davvero esemplare è davvero costante ecco spero di avere fornito diciamo le risposte quasi tutte insomma alle domande che sono state vostre la ringrazio signor perfetto sono sicuro che sarà disponibile nel caso in cui dovessimo disturbarla nuovamente la ringraziamo e le auguriamo di nuovo un buon lavoro l'audizione è conclusa un buon lavoro 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 un buon lavoro